Ciao gente, io sono Xanakobi e oggi siamo in un... non in un tutorial, all'inizio di un gioco Siamo su Wakfu Io giocherò da Elatrop Ovviamente mi chiamerò Xanakobi Senza la calafine Poi qua si sceglie come farli, allora i capelli così come sono Gli occhi sempre bianchi Così, che figo No, vabbè, lo lasciamo color base, tutto classico Mentre il vestito Mentre il vestito O questo O questo Che è ottimo per l'inverno, dato che siamo ora all'inverno Oh, direi questo, sì Iniziamo No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non puoi. Sono occupato. Non vedi? Sto giocando. Porca cazzo. Sembro io proprio. Beh, insomma, lei ci parlerà, e forse sarei tu quest'eroe, bla bla bla, eccetera. E noi praticamente ora dobbiamo uscire. Cavolo. Nuovo continente sbloccato. Scegli la tua nazione. Allora... Wow, sta piovendo. Con lui dovremmo parlare... Parlare, insomma. Ciao, piccolo uno. Sono la guida dei mercenari. Posso fare qualcosa per Ryu? Insomma, qua, tutto eccetera. Lui ti darà una missione, che sarebbe una specie di tutorial, ma super velocizzato. In cui si dovrà combattere contro questo. Probabilmente per sapere le nostre mosse. Bene, iniziamo. Allora, mi piazzo qua. Spero non vi siate dimenticati del tutorial di prima, come fare, no? Aspettate. Ok, no, si era... Non so cosa era successo, vabbè. Quella era la prima mossa di prima. La seconda è questa. E la quarta... Cos'è? Sempre il mio turno, perché questo non può contrattaccare, quindi... Il terzo ha i danni anche ai lati. Il sesto... Questo non lo so a cosa serve. Ah, ora lo so, ora lo so. È una figata pazzesca. Perché, tipo, se noi andiamo qua e facciamo un portale anche di qua... Posso direttamente... Posso direttamente... Spera, ad esempio così? O così? Beh, insomma... È bellissimo. Spera, state a vedere. Cioè, no, non era quello che volevo fare, però... Beh, insomma... Posso scegliere uno di questi sei... Bonus. Se io entro qua, posso riapparire di qua. E da qua in poi... È sempre più bello, insomma. Ora si parla con lui. Sono interessato. Davvero? Davvero, davvero? Livello sei? Doh... Ci ho messo tanto, però almeno sono arrivato al livello sette. Hanno aggiunto... Prima non c'erano i minerali. L'hanno cambiato un po' il mondo. Non è come me lo ricordavo. È più... È diverso. Lei non era lo capo. Era un'altra. Comunque, questi minerali servono. Così puoi trasformarli in Kama. Che sarebbe la moneta... Di questo mondo. Uh, e ora che ci penso, c'ho anche nuove... Nuovi attacchi. Aspetta. Vediamo questo. Al posto di... Lo utilizziamo al posto di questo, che non è tanto utile. Boh, non so. Non riesco ad orientarmi. Cioè, è nuovo. È tutto nuovo qui. Aspetta. Qua aumentiamo la vita, assolutamente. L'attacco. La velocità. E direi... Sì. La criticità. Ok. Qui è tutto strano. Molto strano. Molto strano. E anche diverso. Allora, io devo andare qui. Bene. Faccio solo questa missione e poi basta. Cavolo, ma è davvero tutto diverso. Qui c'è anche un Sadida. Prima non c'era. Parliamoli. Parliamoli. Ok. Questi non c'erano prima. Mio Dio, come l'hanno cambiato il mondo. No, vabbè. È tutta roba nuova, eh. Voi non potete immaginarvi com'era il mondo prima. Cioè, io lo gioco da tipo due anni, un anno e mezzo. Ed è cambiato di molto. Vabbè, intanto raccogliamo... Non posso perché non sono di livello alto. Però questa cosa è uguale. C'è questa cosa della missione... Questa missione è uguale a quella di prima. Cavolo, mi ha avvelenato. Proviamo quella nuova. Vallo. 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 Sì, sì. Oh, ecco! La nostra prima missione è stata già completata Anche se mi devo ancora riorientare di nuovo In tutta la mappa Cioè qua è tutto cambiato Un pallone pappobol È totalmente cambiato Un pallone pappo Hanno cambiato totalmente tutta la città Oh ecco Salviamo qua Non si sa mai E parliamo con il nostro Pappipallo Oh yeah Beh io il prossimo episodio ve lo faccio vedere Credo domani Quindi commentate per Non so Commentare Commentare Tu mi piace per supportare la serie E Aspetta come Ah ecco No aspetta Vabbè così Non mi sa che c'era No non c'è Vabbè E ciao